Troppo buone le focaccine fatte in casa! Sofficissime e perfette per la merenda dei vostri bambini! Prepariamole insieme! Sono facilissime! Versa in una ciotola la farina, aggiungi il sale, l'uovo e poi il latte in cui avete sciolto il lievito di birra e lo zucchero. Formate un panetto e fatelo lievitare fino al raddoppio. Quando l'impasto è pronto riprendetelo e dividetelo in pallina da 100 g ciascuna. Musica 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 Grazie a tutti. Adagiatele su una teglia con carta forno e fateli riposare per 10 minuti. Poi con le dita formate i buchi. Fatele livitare fino al raddoppio e quando sono pronte spennellatele con l'emulsione a base di acqua e olio. Una cascata di sale grosso e poi dritto in forno caldo. Ed eccole qui! Crosta croccante e interno morbidissimo. Preparali subito anche tu! Buon appetito amici! Ciao! 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 Ciao!